Smantelliamo il regime, Medvedev cacciare Zelensky per salvare la Russia, ciò che ha detto in soldoni il vicepresidente del Consiglio di Sicurezza russo, ex primo ministro e presidente della Federazione Russa, predecessore di Putin, evidentemente, il meglio deve ancora venire, ha detto lui, proprio sul suo profilo personale Telegram. Gli attacchi con i missili da crociera di ieri e di oggi, come vedremo in questo episodio, sono proseguiti e proseguiranno ancora, dice Medvedev, sono stati solo l'inizio, il primo episodio tra molti episodi che arriveranno in futuro, nel prossimo futuro. I bombardamenti, i maxi bombardamenti dell'Ucraina continueranno. Il governo ucraino, secondo Medvedev, ha una politica nazista che deve essere estirpata perché rappresenterebbe una minaccia all'esistenza stessa della Federazione Russa. L'obiettivo, dunque, del governo e della presidenza russe dovrebbe essere, secondo Medvedev, quello di arrivare a smantellare del tutto completamente il regime politico che sta a Kiev, sotto l'ala americana, quindi nordatlantica della Nato e quindi dell'America democratica, dello Stato profondo democratico e neoconservatore. Il ministero, il ministro della difesa russo, Igor Konashenkov, ha parlato di attacchi missilistici che hanno raggiunto tutti gli obiettivi nella prima giornata di maxi bombardamenti. Obiettivi militari, della comunicazione ucraina e energetici, colpendo evidentemente moltissime centrali elettriche anche nell'ovest del paese, dell'Europa orientale. Come commenta Vodoytach, un giornale piuttosto russista, ungherese, conservatore, la pioggia brutale di missili, missilistica, continuata anche oggi. Il sistema antiaereo missilistico contro i missili russi dell'Ucraina non ha retto, non sta reggendo per nulla. Gli obiettivi dei missili sono sempre le infrastrutture militari e civili, e quindi strategiche per l'Ucraina. L'ultimo bombardamento si registra almeno ad ora, che sono le 3 di pomeriggio, intorno alle 8 e mezzo di stamattina. Colpite ancora a Kiev la città natale, segnalo la città natale di Zelensky, il presidente della Repubblica Ucraina. Degli attacchi hacker, secondo un esperto politico alla CNN americano, attacchi cibernetici sono stati fatti ieri ai danni, compiuti ai danni del traffico aereo civile americano da hacker russi, tanto per cambiare, a riportarlo ABC News, vari disagi al traffico aereo nordamericano. Biden ha detto che ha promesso all'Ucraina che invierà i più moderni sistemi antiaereo all'Ucraina di Zelensky, appunto per difendere la popolazione civile dai missili russi. Non si parla ancora di Iron Dome, c'è la cupola di ferro, quel sistema antiaereo sviluppato in collaborazione con Israele. Se volete sostenere questo tipo di informazione autentica, nazional conservatrice, che cerca di essere il più genuina possibile, portando una prospettiva dei fatti di ciò che succede ogni giorno, quasi ogni giorno, rispetto alla prospettiva data dai media, cosiddetti mainstream, cioè allineati, potete farlo, potete sostenermi attraverso i due metodi indicati in descrizione, Paypal anche mensile e bonifico bancario. Ringrazio Elena e Roberto per le donazioni mensili. Intanto, Irodo Pontu, perché i media, anche pubblici, conservatori, ungheresi, riportano queste notizie che in Italia scompaiono magicamente. Il mondo è diventato, dice Irodo Pontu, un posto meno sicuro, di botto, così, all'improvviso, perché dopo l'episodio del doppio sabotaggio ai cavi elettromeccanici delle ferrovie del nord della Germania e l'altro giorno, cosa censurata in media quasi sempre in Italia, nuovo attacco e una sospensione della corrente sull'isola danese di Bornholm. Un'isola importante perché qualche settimana fa c'è stato il sabotaggio dei due gasdotti settentrionali al nord stream ai danni della Russia e della Germania e dell'Europa da molto probabilmente, probabilmente fate voi gli Stati Uniti d'America che hanno il controllo totale attraverso la Nato militare di queste acque. Qualcuno parla di un sabotaggio in Danimarca, su questa isola, nel Baltico, di un trasformatore elettrico, qualcun altro parla invece di droni, di droni sottomarini, qualcun altro parla di cavi addirittura tagliati da sub, da sommozzatori. Non la sappiamo la realtà e forse non la sapremo mai come per i gasdotti settentrionali dell'altra settimana. Lukashenko, il presidente bielorusso della Russia bianca, non le manda a dire a Zelensky Se entri, tu Ucraina, fai un passo e attacchi noi, il nostro paese, noi distruggeremo l'Ucraina attraverso un'operazione congiunta militare con la Russia di Putin. Lukashenko con la Russia di Putin ha schierato, hanno schierato dei contingenti militari al confine occidentale con la Polonia. Dall'altra parte c'è la Nato, la Polonia. La Polonia che consiglia ai suoi cittadini ufficialmente in Bielorussia di lasciare il paese dell'Europa orientale comandato dall'alleato di Putin. Sentite il mitro Kuleba che è il ministro degli esteri ucraino, molte critiche contro Orban da mesi, mesi, mesi. Sentite cosa scrive su Twitter. No, Putin non è stato provocato con l'incidente al ponte di Crimea dello stretto di Kerch, bombardato, che collegava, o che collega per meglio dire, è stata ristabilita parzialmente la circolazione dei mezzi e dei treni, la Crimea alla Russia continentale. Sentite cosa dice, chiedo, perché i media occidentali internazionali devono, devono, chiedo, uno stop completo di questa narrativa. Cioè questo è il senso della democrazia, del pluralismo, dell'informazione, dei valori europei. Perché l'Ucraina è da sempre molto vantata, da sempre, no? Dopo il 24 febbraio stranamente è arrivato sicuramente un certo ordine da ovest, da Washington, di far diventare l'Ucraina il centro dei valori europei. Per esempio l'Ungheria o la Polonia il centro delle autocrazie senza pluralismo dell'informazione. Quando HVG, questo giornale ungherese, è l'ennesimo d'opposizione europeista-ucrainista in Ungheria contro Orban. L'Ucraina comunque ha bloccato l'export di corrente elettrica verso le nazioni dell'Unione Europea, tra cui anche l'Ungheria, dopo gli attacchi alle centrali anche di Ivano-Frankivsk, una città nelle città più occidentali dell'Ucraina. La reazione dell'Unione Europea tramite la presidentessa della Commissione Europea, von der Leyen, insieme in un video con Kaya Kallas, che è il primo ministro dell'Estonia, molto anti-russa, veramente legata al World Economic Forum di Schwab. Sono veramente scioccata dagli attacchi sui civili, dice la von der Leyen. E il capo del mondo libero, Biden, quello che vedete con gli occhiali con i Ray-Ban, porterò davanti alla corte dell'AIA sostanzialmente Putin, il presidente della federazione russa, per tutti i crimini di guerra, perché è un criminale di guerra, e insiste. Una pagina conservatrice ungherese che sa criticare anche Orban spesso e volentieri, per esempio sulla Coto, per esempio sulle bollette, su altro, cioè Samok, numeri letteralmente su Facebook, che cosa dice? Vergogna, vergogna di NATO, Unione Europea, perché condannate queste cose, questi attacchi della Russia, ok, ma non condannate mai gli attacchi da parte ucraina con le armi americane, inglesi, occidentali, contro i russi, le minoranze linguistiche negli anni passati, anche ungherese. Appunto di Ungheria, parliamo di Ungheria. Il ministro ungherese, Siarto Peter degli Esteri, vola in Russia dall'oligarca putiniano vicino a Gazprom il 13 ottobre, dopo domani, e questo fa indiavolare la stampa allineata globalista come Fuffington in Italia, che ci mette in mezzo a forza la Meloni, che però oggettivamente deve scegliere da che parte stare, non puoi stare con Zelensky, con l'eroico popolo ucraino, e poi, meglio, i vertici eroici, Zelensky, eroe di guerra, e poi stare con Orban allineato, pappa e ciccia, evidentemente devi scegliere la tua strada politica. Telex, per chiudere, Orban ha parlato di Biden, Biden è andato troppo oltre, dice il primo ministro ungherese. Trump è l'unica strada per la pace, l'unica speranza di pace nel mondo. Trump che ha detto che Biden, di ieri avanti ieri, Biden sta trascinando Putin in una guerra mondiale. Orban che evidentemente ha un approccio particolare, unico in Europa, per convenienza economica, sì, perché qui in Ungheria facciamo i nostri interessi, questo fa di noi dei mostri egoisti, amen, siamo abituati, siamo anche gli eredi degli uni di Otillo, Attila. Grazie per aver visto questo episodio al prossimo tra Italia e Modio Rorsal.